Ciao a tutti, io sono Miss Meeple, benvenuti sul mio canale dedicato ai giochi da tavolo. Quello di oggi è il primo esperimento di gameplay in solitario che faccio su questo canale, fatemi sapere poi nei commenti che cosa ne pensate. Il periodo purtroppo è quello giusto perché molti di noi sono chiusi in casa e non possono trovarsi con i propri amici per giocare ai giochi da tavolo. Tra l'altro ho pubblicato recentemente un video su questo argomento, vi lascio il link nella descrizione, e lì trovate una serie di idee, consigli e suggerimenti su giochi da fare anche da soli. Oggi giochiamo ad Agricola, che è un gioco molto famoso di Uwe Rosenberg. Siamo degli agricoltori e dovremo sviluppare la nostra fattoria, con l'allevamento, la coltivazione, a crescere la nostra casa e la nostra famiglia. Trovate un tutorial completo di Agricola sul mio canale, vi lascio poi il link nella descrizione. Ovviamente lì sono spiegate tutte le regole passo passo, oggi non faremo la stessa cosa, ma vedrete che capirete ugualmente come si gioca seguendo quello che faccio. Cominciamo subito a giocare! La partita in solitario si inizia senza cibo e io già mi sento soffocare. Inoltre i lavoratori consumano tre cibo a testa in ogni fase raccolto. Le fasi raccolto sono quelle con il simbolo cornucopia, quindi la prima che troveremo sarà dopo il round 4. La partita dura 14 round, ad ogni round viene scoperta una nuova carta con un nuovo spazio azione per i nostri lavoratori. Io ho due lavoratori, quindi nel primo round ho solo due azioni disponibili. Nella partita solitario è consigliato scegliere le carte della propria mano, quindi sia le occupazioni che i piccoli miglioramenti, e si può anche scegliere l'ordine con cui appariranno le carte con gli spaziazioni. Come prima cosa io vado proprio a giocare una carta occupazione. La prima è gratuita, le altre costeranno un cibo. Gioco l'assistente agricolo, che mi dice che ogni volta che userò lo spazio bracciante, che è quello che dà due cibi, potrò anche arare un campo, quindi potrò anche svolgere questa azione. E la mia seconda azione sarà proprio fare il bracciante, quindi ottengo due cibi e aro un campo, quindi prendo un campo vuoto e lo metto sulla mia plancia. Sulla plancia vedete due stanze della nostra casa e il resto vuoto. Sul resto della plancia si potranno costruire nuove stanze, si potranno mettere dei campi da coltivare e si potranno creare dei recinti per gli animali. È finito il primo round, ritiro i lavoratori. Scopro un nuovo spazio azione e vado a riempire tutte le carte con una freccia. Quindi abbiamo una pecora, due legni perché nelle partite in solitario se ne mettono solo due invece di tre, come è stampato e come sarebbe nelle partite a più giocatori. Un'argilla, una canna e un cibo. Nel mio secondo round vado a prendere due canne, che poi mi potranno servire per costruire per esempio una nuova stanza. E vado a prendere un grano, che poi seminerò più avanti. Ritiro tutto. Ops, nuovo spazio azione. Con questa carta si possono giocare i piccoli miglioramenti, che sono le carte arancioni, e i grandi miglioramenti che sono delle altre carte che non vedete nell'inquadratura, ma quando le giocherò vi farò vedere di cosa si tratta. E poi di nuovo vado a riempire gli spazi con la freccia, quindi altri due legni, un'argilla. Questi spazi quando si usano si prende tutto quello che c'è, quindi anche per quello ho aspettato per ricaricare per bene lo spazio azione. Vado a fare di nuovo il bracciante, non tanto per il cibo, che in realtà è sempre utile, quanto per avere un altro campo da arare. E con la seconda azione mi prendo un altro seme di grano. Ritiro. Nuovo spazio. Alla fine di questo round ci sarà il raccolto. La nuova azione permette di costruire steccati, quindi per creare dei recinti. Ogni steccato costa un legno. Vado a riempire. Allora, come prima cosa vado a seminare. Seminare significa prendere i semi che si hanno, grani o ortaggi, gli ortaggi entreranno in gioco successivamente, e se ne mette uno per ogni campo vuoto. I grani generano automaticamente altri due grani. Gli ortaggi genererebbero un ulteriore ortaggio. Questi vengono poi raccolti durante la fase del raccolto e si possono usare come cibi. Vediamo la seconda azione. Come seconda azione potrei prendere questa argilla. Ok, fase del raccolto. Si prende il primo grano o il primo ortaggio di tutti i campi. Si sfamano i lavoratori. Quindi io devo pagare sei cibi. Ne ho quattro di questo tipo. più pago i due verani. E in più, se avessi degli animali, si potrebbero riprodurre, ma in questo caso non ne ho ancora. Quindi lo vedremo, spero, più avanti. Prossimo round. Ok, con questa azione posso avere un lavoratore in più. Vedete che qua ne ho tre extra. Però dovrò prima avere una stanza per ospitarlo. Vado a ricaricare le carte. Direi che con tutto questo legno vado a prenderlo. Sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, potrei costruire una nuova stanza che mi costerebbe cinque legni e due canne. Sì. Lo facciamo. Quindi pago cinque e due. Prendo una nuova stanza di legno e la metto adiacente a quelle che ho. E per questo round, anzi no, con lo stesso spazio azione, se voglio posso pagare due legni per una stalla. Sì, direi che faccio anche una stalla, già che ci sono così, non spreco un'azione. E per ora la metto qui. Poi le stalle potranno essere recintate e se sono all'interno di un recinto ne raddoppiano la capacità. Tornano a casa. Nuova spazio azione, sono arrivate le pietre. Vado innanzitutto a comprare un grande miglioramento. Al costo di quattro argille prendo la carta cucina. I grandi miglioramenti servono soprattutto per aiutarvi a produrre cibo, quindi trasformano vari elementi in cibo. In questo caso potrò utilizzare gli animali come cibo e potrò trasformare con l'azione cuocere il pane un grano in tre cibo. Quindi è attiva la mia cucina. Come seconda azione vado a sbloccare un nuovo lavoratore. Lo metto per il momento qui e a fine round che in realtà stiamo già a fine round torneranno a casa. Se ci fosse da sfamare un lavoratore neonato nella round in cui è nato necessiterebbe di un solo cibo. Questo mi dice che se voglio posso anche giocare un piccolo miglioramento. Vediamo se ho qualcosa di utile. va bene pago un legno e gioco la paletta per il grano che mi dice che ogni volta che andrò a fare l'azione semi di grano invece di un grano ne otterrò due. Quindi pago un legno e la metto qui attiva. Ok fine della round tornano a casa ognuno ha la sua stanza nuova azione allora intanto alla fine di questo round ci sarà la fase del raccolto la nuova azione è la ristrutturazione della casa con questa azione posso trasformare la mia casa di legno in casa di argilla e una casa di argilla in casa di pietra ovviamente varranno un maggior numero di punti a fine partita e vado a riempire tutti gli spazi quindi allora intanto vediamo se ho abbastanza cibo devo pagare nove cibi raccoglierò due grani che però solo con l'azione cuocere il pane mi diventano tre cibi quindi non nella fase del raccolto quindi diciamo che per sicurezza intanto vado a prendere questo cibo che sono uno due tre quattro cinque sei sette e poi nel raccolto dovrei raccogliere due grani quindi dovrei essere a posto se ho fatto bene i calcoli vado poi a prendere il legno e con l'ultima azione vado a costruire uno steccato quindi uno due tre quattro cinque e sei ho chiuso il recinto e spendo tutto il mio legno sei legni uno per steccare adesso potrò ospitare degli animali il turno però è finito quindi tornano a casa raccolgo uno e uno sfamo quindi spendo sette cibi più due grani che fa nove tre cibi a testa vi ricordo ancora non ho animali quindi niente riproduzione round otto arrivano gli ortaggi in questo caso la carta non si rifila ad ogni round semplicemente si prende un ortaggio quando si va a fare quell'azione vado a rifillare vado innanzitutto a fare il bracciante che mi dà i miei due cibi e un campo nuovo e poi faccio anche arare un campo così ne prendo un altro e lo metto qui i campi vanno adiacenti tra loro i recinti adiacenti tra loro le stanze adiacenti tra loro ho un'ultima azione vado a prendere un ortaggio per ora non lo lo tengo fuori dai campi poi solo con l'azione semina lo posso mettere sui campi tornano a casa ci avviciniamo spaventosamente a un'altra fase raccolto arrivano i maiali intanto vi devo dire che a fine partita non c'è un obiettivo specifico si cerca ovviamente di fare il punteggio più alto possibile ci sono anche dei punti negativi se si lasciano degli spazi liberi sulla plancia se non si hanno certi tipi di animali se di un certo tipo di risorse ne rimangono zero e così via quindi è abbastanza tosta la questione allora innanzitutto vado finalmente a prendere un po' di animali allora ogni spazio che è questo quadratino recintato terrebbe due animali una stalla in un recinto raddoppia la capacità del recinto stesso quindi questo recinto fatto di due spazi con la stalla terrebbe fino a otto animali dello stesso tipo in questo momento ne ho sei e le lasciamo qui gli animali poi se ne possono tenere uno in casa ogni un solo animale e se ne potrebbe tenere uno su una stalla che mettiamo in un pascolo non recintato vado a prendere un grano che me ne da due per la paletta di grano che ho giocato prima e a questo punto vado a seminare semino un ortaggio che mi genera un altro ortaggio un grano che mi genera due grani si può seminare solo su campi vuoti e in più posso fare anche l'azione cuocere il pane che è quella della mia cucina quindi spendo un grano e lo trasformo in tre cibi ho finito le azioni quindi loro tornano a casa c'è una fase del raccolto quindi prendo uno da ciascun campo uno 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 sfamo i lavoratori quindi devo pagare nove uno due tre quattro cinque sei sette otto nove esattamente tutto quello che ho mangiano veramente tanto e finalmente ho degli animali che si possono riprodurre quindi se si hanno almeno due animali di una stessa specie se ne può prendere un altro ovviamente se si ha spazio per tenerlo e io metterò una nuova pecorella in questo recinto e passiamo a round dieci arrivano anche le mucche come prima azione vado a prendere tutte queste canne seconda azione prendiamo un po' di pietra e poi un po' di argilla facciamo un round di sole risorse finito round 11 alla fine questo round raccolto c'è un'altra fonte di pietra allora prendo il legno costruisco degli steccati uno due tre quattro stavolta mi bastano perché c'è questo a fare da confine e ne costruisco e ne costruisco altri quattro così così quindi devo spendere otto legni così se vorrò prendere degli animali ho lo spazio necessario aiuto si stanno distruggendo i recinti ultima azione di questo round vediamo come faccio a recuperare un po' di cibo compro un grande miglioramento la bottega del cestaio che mi costa due canne e due pietre e mi trasforma le canne in cibo inoltre mi dà dei punti vittoria se a fine partita mi restano due quattro o cinque canne fase del raccolto raccolgo uno e uno trasformo una canna in tre cibi con la bottega del cestaio me ne manca quattro sacrifico due pecore per quattro cibi come mi permette di fare la cucina quindi non li riprendo neanche tanto devo pagare tutto in cibo e poi mi nasce comunque una nuova pecora lavoratori tornano a casa round 12 ok in questo caso si può fare un figlio quindi può nascere un nuovo lavoratore anche senza stanza quindi lo si può mettere insieme a un altro lavoratore vado a riempire vado a prendere un po' di animali quindi prendo i quattro maiali due e due questo sarebbe già pieno perché non c'è la stalla come nel caso delle pecore vado a prendere anche le mucche sono tre e le mettiamo qui e mi rimane un'ultima azione con cui vado a fare un rimodernamento quindi la mia casa di legno la trasformo in casa di argilla pago una canna per il tetto e un'argilla per ogni stanza quindi uno due tre cambio questa stanza in argilla e sovrappongo le stanze di argilla a quelle che ho già tornano a casa round 13 questo ti permette di questa azione permette di velocizzare la semina quindi fa posizionare un nuovo campo e subito seminare sopra di nuovo riempiamo allora vado a prendere un po' di grano a prendere un ortaggio e a fare l'azione che è appena uscita quindi metto un nuovo campo e semino subito ho solo questi due quindi metterò uno e uno che danno un ortaggio in più e due grani in più tornano a casa raccolto quindi uno 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 devo sfamare quindi cambio una canna in tre cibi tre sei me ne mancano sei scusate me ne mancano tre quindi di nuovo sacrifico due pecore per quattro cibi ok pago uno due tre quattro cinque sei sette otto e nove e poi stavolta ho un bel po' di animali perché tutte le coppie possono avere un cucciolo quindi facciamo un nuovo maiale non ci sta in questo recinto perché è già capienza massima ma un animale può stare in casa e quindi lo mettiamo qui le mucche fanno un nuovo vitello e ci sta nel recinto la stessa cosa succede per le pecore ultimo round e ci sarà anche un'ultima fase del raccolto con quest'azione si può fare il rimodernamento e costruire steccati nella stessa azione allora ci è rimasto un solo spazio vuoto che ci darebbe punti negativi quindi vediamo se abbiamo modo di riempirlo l'altra cosa che potremmo fare è tenere delle risorse che comunque danno punti in particolare a me servirebbero delle canne perché per la carta che ho giocato mi darebbero punti vado a prendere un grano come prima azione poi faccio nuovamente un campo così occupo anche l'ultimo spazio più semina quindi metto questi due che danno un ortaggio in più e i due grani in più e ho un'ultima azione con quest'ultima azione mi conviene fare il rimodernamento quindi pago una canna per il tetto tre pietre per le mie tre stanze e la mia casa diventa una casa di pietra ultima fase del raccolto prendo uno 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 devo sfamare sempre nove qui ho quattro mi conviene dare via un animale faccio 5 6 7 che il maiale vale tre cibi e la pecora che vale due cibi si riproducono quindi comunque mi torna indietro un maiale la mucca non ci sta quindi non la posso prendere e la pecora e così ho finito la partita e vado a calcolare il punteggio allora andiamo a segnare nel blocchetto segnapunti tessere campo e pascoli allora io ho uno due tre quattro cinque sei campi quindi sono quattro punti i pascoli che sarebbero quelli recintati sono tre quindi sono tre punti quanto grano mi è rimasto uno due tre un punto quanti ortaggi uno un punto quante pecore cinque è tutto scritto qua sul lato del tabellone due punti quanti cinghiali scusate non erano maiali erano cinghiali sono cinque quindi sono tre punti quanti bovini quattro tre punti spazi fattori inutilizzati nessuno bravissima quante stalle recintate una un punto stanze di argilla non ne ho stanze di pietra ne ho tre e valgono due punti ciascuna quindi sei quanti familiari tre che valgono tre punti ciascuno quindi nove punti bonus che sarebbero quelli delle carte giocate allora sono tre punti scritti sulle carte in più mi avanzano due canne e un altro punto quindi sono quattro punti in totale vado a fare la somma per un totale di trentasette punti che non è affatto male perché il regolamento dice che trenta punti è buono quaranta punti è eccellente quindi direi che sono andata bene va bene ragazzi grazie per avermi seguito fin qui fatemi sapere se vi piace agricola se vi è piaciuto questo video se pensate che dovrei farne altri se avete dei suggerimenti per farli meglio scrivetemi nei commenti li ascolto molto volentieri noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao